Papa Francesco ha detto che lo Spirito stesso è il dono di Dio per eccellenza, è un regalo di Dio e a sua volta comunica a chi lo accoglie diversi doni spirituali. Il primo dono dello Spirito Santo è la sapienza. Il dono della sapienza, dal latino sapere, sapore, è una saporosa conoscenza di Dio e dei suoi misteri. E mentre l'intelligenza è di conoscere e penetrare, la sapienza invece apprezza e da questa conoscenza nasce il gusto delizioso che a volte si propaga in tutti i sensi a secondo della purezza a cui siamo arrivati. San Francesco ci racconta Tommaso d'Acelano che tutte le volte che parlava, pronunciava in nome Dio e Gesù, si sentiva la bocca ripiena di dolcezza come se fosse piena di zucchero. Si direbbe si leccava ai baffi come quando mangiamo qualcosa di molto buono. Anche noi abbiamo bisogno del dono della sapienza. Avvicinandoci alle cose spirituali, anche se desideriamo pregare, dopo poco che ci siamo messi a pregare ci stanchiamo e ci stufiamo. Ecco, domandiamo il dono della sapienza, di sapere, di gustare, che il Signore ci dia il gusto della preghiera, il gusto di stare con Lui. Chiediamoglielo e ce lo concederà.